200 euro vale così un documento del Michelangelo sono 6.600 fogli all'incirca se fa la divisione qualcosina meno dire il vero un milione e mezzo di euro per le 32 filse e oltre 6.600 fogli di Giorgio Vasari è quanto lo stato offerto per il prezioso archivio vasariano che contiene anche le lettere scambiate con Michelangelo Buonarroti una cifra ritenuta decisamente esigua dalla famiglia Fessari attuale proprietaria delle carte. Chiunque abbia un minimo di buonsenso non può che rendersi conto che è una cifra messa lì unicamente dalle disponibilità di cassa di chi si vuole imporre come unico acquirente. Quella tra lo stato e la famiglia Fessari è una battaglia legale che va avanti da anni. La scorsa estate era arrivato il decreto che stabiliva la pubblica utilità delle carte ed infine qualche giorno fa è stato notificato alla famiglia il decreto vero e proprio di esproprio firmato dalla direzione generale archivi per conto del ministro Franceschini. La famiglia però non ci sta e ha già annunciato l'intenzione di fare ricorso al TAR. E' già tutto pronto quindi sarà questione di giorni il deposito dell'integrazione del ricorso perché il ricorso è già stato presentato in sede di decreto di dichiarazione di pubblica utilità quindi qui ci sarà un'ulteriore integrazione per quello che riguarda proprio l'esproprio. Questa mattina infine ha preso avvio la catalogazione del prezioso carteggio alla presenza della soprintendenza archivistica per la Toscana, un'operazione alla quale però non è stato ammesso il legale della famiglia. L'avvocato ha così chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto. Sono uno degli avvocati nominati quindi a tutti gli effetti ho la legittimazione per assisterti in qualsiasi fase della procedura così come è previsto dalla normativa e così come è previsto dalla nostra Costituzione.